sabato 6 aprile stiamo inaugurando la nostra quarta apertura nell'ultimo mese solo nell'ultimo mese siamo a vertemate abbiamo anche qui avuto tantissime persone che sono venute a trovarci tantissimo successo veniamo da questo ultimo mese dove abbiamo inaugurato montano lucino successivamente alessandria poi san giuliano e adesso vertemate è un percorso divertente inebriante attraverso il quale vogliamo e stiamo riuscendo a portare fit active in tutta italia fit active è il modo di vivere il fitness 24 ore su 24 con 19 euro e 90 puoi accedere in tutte le strutture d'italia in realtà è molto di più è la felicità la passione che ci mettiamo ogni giorno nel fare quello che facciamo noi vediamo il fitness come modo per rendere felici le persone che vengono da noi si viene qua da noi per cambiare il tuo fisico in otto settimane per raggiungere degli obiettivi no si viene qua per stare felici quell'oretta che si viene per non pensare a tutto quello che accade nella vita di tutti i giorni la frenesia i problemi tutto quello che c'è ma per stare quell'oretta felici sorridenti quindi qui non troverete delle attrezzature senza anima troverete gente con passione che fa questo mette un'anima dentro le attrezzature troverete dei sorrisi delle persone che vi accolgono un passione ad un amore questo è quello che cerchiamo di infondere a tutto lo staff i tatti questo è quello che cerchiamo di infondere ai nostri francesi che aprono delle strutture con noi se anche tu che mi stai ascoltando per esempio la pensi come noi e hai voglia di insediare una nuova struttura di questo tipo non è importante che sia grande mille metri mille cento metri l'importante che lo fai con passione che hai voglia di farlo che ti piace farlo che hai dentro un amore verso l'altra persona allora contattaci vai sulla sezione franchising ci contatti a troverai dei nostri responsabili che ti risponderanno e ti daranno tutte le informazioni delle quali necessiti per portare un pochettino di felicità attraverso il fitness a tutte le persone che hanno la voglia la fiducia la bontà di sceglierci ti ringrazio da eduardo